Sì, abbiamo visto un'ottima partita di Palabra tra due squadre preparate al meglio per questa competizione. È finita ai rigori, quindi non c'è chi è più forte e chi no. Noi volevamo portare a casa anche la coppa, ce l'abbiamo fatta e adesso è vista la prossima squadra. Siamo due squadre che personalmente io ho apprezzato molto, sia nei ritmi che nel gioco. Ovviamente la partita non è andata benissimo, ma non è questo quello che ci importa ora. La partita importante era ieri con un bellissimo pubblico che ringrazio veramente tantissimo e sperando di poterlo avere nella prossima stagione di 1 in casa a tutte le partite.